E' già un caso letterario, ma potrebbe diventare un caso politico. Il libro, scritto a quattro mani da un ex agente delle rosse dei Carabinieri e dal giornalista Luigi Carletti, rivela fatti clamorosi, come l'esistenza di una zecca clandestina in Corea del Nord che stampa dollari veri per conto di cittadini americani. Per aver scoperto questa realtà, l'agente Casper ha rischiato di perdere la vita in un campo di rieducazione in Cambogia. Supernotes racconta un intrigo internazionale, ma molti capitoli della vicenda sono ambientati a Roma. Faccio un'intervista che parte dai luoghi. I luoghi di Roma che si trovano all'interno di questa vicenda. Là, al centro, naturalmente questa vicenda internazionale, c'è l'esperienza di prigionia in Cambogia. Però molte cose sono avvenute anche a Roma. Siamo venuti proprio a Villa ad fare questa intervista perché qui c'è la caserma Talamo che ospita il quartier generale dei Ross, il raggiungamento operativo speciale dell'arma dei Carabinieri. Lei ha lavorato per i Ross, per quanto tempo e di cosa si occupava? Diciamo, il mio rapporto con i Ross è iniziato nella prima parte, agli inizi del 90. Negli anni 90 si è protratto fino alla fine degli anni 90. Ci sono state due grosse operazioni delle quali mi sono occupato, la pilota e la Sinai, che furono due enormi successi, soprattutto la pilota. Lei era un pilota dell'Alitalia e questa era la sua copertura per fare l'agente segreto? Sì, sono stato un pilota, un professionista dall'inizio degli anni 80. Dalla fine degli anni 80 sono entrato in Alitalia. Precedentemente ho lavorato anche per una società di Ciampino, che comunque collaborava con la presidenza del Consiglio dei Ministri. E i Vertici all'Italia sapevano del doppio ruolo, quindi ogni tanto compatibilmente con necessità addestrative, eccetera, eccetera, uscivo dalla lina per poi rientrarci. Supernotes è un romanzo che racconta una storia vera. L'hai scritto tu insieme all'agente Casper. Cosa sono le Supernotes? Supernotes sono dollari falsi ma veri, stampati non sul territorio americano, con strumenti tutti americani. Quindi è un'operazione chiaramente illegale, che serve a finanziare altre operazioni illegali dei servizi segreti americani. Che storia racconta il libro? Il libro racconta una storia complessa ed un insieme di storie, perché oltre a Supernotes, che si muove in uno scenario internazionale, ha anche molte storie più italiane, perché comunque il protagonista, l'agente Casper, per 30 anni è stato un agente operativo dell'intelligenza italiana e non solo. E' la storia di un'indagine, di un'indagine molto approfondita, molto bella anche, che però diventa una trappola, una trappola che costerà a Casper, come è realmente avvenuto, 373 giorni di prigionia in Cambogia. Quanto è destabilizzante per l'economia mondiale l'esistenza di una zecca di dollari clandestina, che però produce banconote quasi indistinguibili, in uno stato canaglia, collocato in uno stato canaglia per gli Stati Uniti? Beh, credo che gli economisti su questo tema si potrebbero esercitare a volontà, perché comunque le quantità di dollari falsi, ma veri, say in same but different, dicono da quelle parti, che vengono immesse nel mercato valutario sono enormi, parliamo di miliardi, e quindi questo altera sensibilmente le regole del gioco. Allora, adesso andiamo nel quartiere Prati, lì c'è lo studio di un avvocato che ha seguito il suo caso mentre lei si trovava in prigionia in Cambogia. L'avvocato fu contattato da sua madre e dalla sua fidanzata, che oggi è sua moglie. Perché è finito in quel campo? Che cosa è accaduto? I motivi sono da ricercare nella vicenda che descriviamo nel libro, ovvero mi fu chiesto di verificare se dall'ambasciata nordcoreana di Phnom Penh uscivano ingenti quantitativi di queste banconote chiamate Super Dollars, che sono assolutamente identiche alle originali, ma non sono stampate negli Stati Uniti, bensì in Corea del Nord. Purtroppo scoprì questo e scoprì altro ancora, la qual cosa mi costò 373 giorni in un campo di concentramento. Un altro luogo è il Ministero degli Affari Esteri, quindi la Farnesina. Allora, durante la sua prigionia, in un caso eclatante, insomma un italiano prigioniero, ma forse meglio dire rapito, in un paese straniero, doveva comportare un interessamento importante del governo italiano. Invece non si è fatto quasi niente. Che spiegazione si è data? Beh, togliamo pure il quasi, non si è fatto assolutamente niente. La Farnesina ha risposto con una lettera che tuttora conserviamo, che è anche abbastanza divertente da leggere. Non furono inviati funzionari dalla Farnesina per venire, se non altro, ad assistermi, a trovarmi, cosa che viene regolarmente fatta per tutti gli anni che hanno problemi all'estero. La Procura della Repubblica di Roma non fece nessun intervento. Evidentemente ci fu un veto ad alto livello affinché non fossero fatti interventi. È lo stesso veto che ritengo permanga oggi. Ad un certo punto il generale dei Carabinieri, che è stato per tanto tempo il capo dell'agente Casper, lo definisce nel libro un crocevia della storia. Che vuol dire? Vuol dire appunto che Casper, come pochi altri, è un uomo che ha attraversato 30 anni della nostra storia in un ruolo molto particolare che è quello di agente operativo. Per cui lui ha lavorato per l'intelligence negli anni prima del crollo del muro di Berlino, quindi quando c'erano i due blocchi che si fronteggiavano, e dopo, quindi dopo la dissoluzione, la fine del cosiddetto impero sovietico. E sono due epoche storiche completamente diverse, con una linea di confine che è appunto il crollo del muro. Un uomo che ha fatto tutta questa esperienza lavorando nell'intelligence, porta con sé certamente esperienze e sensazioni, un know-how straordinario. Allora, altro luogo, la Basilica di Santa Maria in Trastevere. E' importante perché lì avviene un incontro tra sempre il suo avvocato e un ex narcotrafficante, una donna che è poi diventata una sua amica. Come si sono incrociate le vostre storie? Si sono incrociate perché c'era una loro conoscenza pregressa, in quanto l'avvocato Barbara Belli, noi la chiamiamo Barbara Belli, si era occupata delle vicende della Manuela Sanchez in precedenza, e la conosceva molto bene, sapeva che tempra di donna era e si sono incontrate in una chiesa che ha un valore particolare per Manuela, la chiesa della redenzione, è cosiddetta, perché Manuela ha intrapreso molti anni fa un cammino di ravvedimento che è stato proprio il caso di dire operoso ed è stata insieme a Barbara e le altre tre donne, due donne, strumentali nel mio rientro. Sono state importanti? Sono state fondamentali, sono state quattro angeli, a partire da mia madre che era molto anziana e molto malata, che però lottò come una leonessa. Adesso andiamo nella zona dei palazzi della politica italiana, quindi siamo all'intorno del Senato, del Parlamento e del Governo. Una vicenda del genere, una vicenda che parla di dollari americani stampati in uno Stato canaglia dovrebbe far interessare tanti governi nel mondo, non soltanto quello italiano, invece anche la politica non se n'è interessata a questo caso. Fanno finta di non sapere o non sanno? Sanno, sanno perfettamente, fanno finta di non sapere, non intervengono. C'è un veto di altissimo livello che impone una cortina di silenzio su tutta questa vicenda. Perché i nordcoreani stampavano, forse stampano ancora, super notes, ma per conto di qualcun altro, che usa e ha utilizzato questo denaro in contanti per pagare, finanziare operazioni, cosiddette operazioni wet, che sono operazioni non a budget, non a bilancio, in quanto prettamente illegali. Allora, qui parliamo degli americani. Tra gli altri tentativi che ha fatto il suo avvocato di liberarla è stato anche di rivolgersi ad un'amica sposata con un americano che aveva conoscenze importanti. Anche quella strada l'ha trovata poi chiusa. Ma ci sono americani buoni e americani cattivi? Beh, semplificando di molto, sì, si può dire così. Noi ne parliamo nel libro. Non abbiamo nel nostro libro preteso di fare un'analisi che porti a delle conclusioni generalizzate. Probabilmente l'amministrazione americana ai più alti livelli non è al corrente dell'operazione super notes, però alcuni elementi, alcuni reparti dei servizi di intelligence assolutamente sì. Quindi io anche in Cambogia ho conosciuto il poliziotto buono e quello cattivo, chi mi faceva promesse, chi mi minacciava. E quindi sì, la risposta è sì, ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Allora, per le super notes lei ha rischiato la vita perché è uscito da quel campo quasi per miracolo, insomma. Ce l'ha fatta alla fine, ma rischiando veramente la vita. Si è convinto a raccontare questa storia? Adesso non teme qualche invece pericolo? Io credo, e con Luigi Carletti condividiamo questa linea di pensiero che se fossi rimasto nell'ombra avrei corso più rischi, prima o poi sarei sparito. In questo modo, forse dicendo le cose come sono andate, raccontando questa storia vera, forse si sono leggermente inferiori. La sua visibilità adesso? Esatto, forse la visibilità è paradossalmente più protettiva. Allora, Villa Borghese, c'è un capitolo in cui l'avvocato legge i suoi diari, i diari che lei ha compilato mentre si trovava in questo campo di rieducazione in Cambogia. Come ha fatto a far arrivare i diari in Italia prima che lei venisse in Italia? Questi diari mi sono molto cari e sono molto drammatici, sono sporchi di sangue, di pipì, di tutto, di sudore. E sono riuscito fortunosamente a darli ad uno dei personaggi eroici di questo libro, Brady Allen-Lansworth, che è questo ragazzo americano che così tanto mi ha aiutato, che poi è riuscito a farli avere a Manuela Sanchez e sono ritornati da me in questa maniera, li conservo ancora. Allora, negli ultimi capitoli c'è anche una scena all'aeroporto Leonardo da Vinci, che oltre a essere il suo luogo di lavoro quando era pilota, è anche il luogo dove l'avvocato va perché a un certo punto decide di arrivare in Cambogia, ma è molto preoccupata per le sue condizioni di salute. Ma viene fermata perché in realtà proprio in quelle ore lei sta per essere liberata. Allora, come ha fatto ad uscire da quell'inferno alla fine che l'ha salvata? C'è stato un intervento veramente significativo da parte di un italiano che era però non un diplomatico di professione e non è mai stato incaricato dalla Farnesina, il delegato consolare di Phnom Penh, che ha un altro lavoro, fa un altro lavoro, insomma. E poi si è presentato l'angelo francese, che è questo misterioso, a tutt'oggi, diplomatico francese, che quando io avevo ormai esaurito tutte le mie possibilità, anche fisiche, è riuscito ad organizzare la mia fuga. Sul filo del rasoio, perché non era assolutamente certo che andasse bene, ma ha funzionato. Questa vita, questa storia è incredibile, insomma, degna dei più grandi intrighi internazionali. Quanti agenti Casper ci sono in Italia? Ne abbiamo altri. Ce n'è qualche altro. La persona che vent'anni fa ci ha presentati, che è un altro mio amico, è un altro personaggio del genere, così come altri nella mia vita professionale da giornalista ne ho conosciuti. Lui è un personaggio quasi unico, perché appunto per molti anni è stato un pilota dell'Alitalia, per un certo periodo ha fatto anche il, tra virgolette, il giornalista, e soprattutto ha lavorato, e questo è strano per un agente italiano, soprattutto sui fronti internazionali. Quindi lui ha lavorato un po' in Italia, ma soprattutto sui vari aree del pianeta. Anzi, questo libro smuoverà qualcosa a livello politico, sia nazionale che internazionale? Ma questo è un paese cloroformizzato, che è alle prese con problemi molto seri. Certo è che oggi una vicenda come quella di Casper e della sua prigionia ha ottenuto una grandissima attenzione da parte di Emilia, una buona attenzione dal pubblico, e ci auguriamo che prosegua così, e un silenzio assordante da parte delle istituzioni. Non si è mosso niente fino a qua? Non si è mosso niente, ma è comprensibile, perché questa storia, che noi abbiamo rivelato con Super Notes, è stata tenuta nascosta all'opinione pubblica fino ad oggi. È una storia che risale al 2008-2009, quindi non stiamo parlando di 30 anni fa, è piuttosto recente. È stata tenuta nascosta sotto un velo, oggi che è uscita si tenta comunque di tenerla nascosta sotto lo stesso velo all'interno dei confini nazionali, però è un tentativo destinato a fallire. Infatti sta per uscire il libro in tanti altri paesi. Il libro è stato acquistato in una decina di paesi stranieri, esce tra il 24 aprile, esce in Francia, uscirà in Gran Bretagna nei paesi del Commonwealth, esce in Spagna, in Portogallo, in Brasile, in Turchia. Insomma, è un po' dura tenerla ancora sotto il velo. E sta per uscire anche la versione in inglese, quindi anche gli americani potranno leggere questo. Sì, ma inevitabilmente, ormai oggi in un mondo globalizzato non puoi più tenere le cose sotto una coperta e pensare di non farle uscire. Abbiamo delle richieste per una trasposizione cinematografica, quindi credo che le istituzioni italiane farebbero una figura migliore se dessero delle risposte rispetto a quello che è successo, assumendosi le responsabilità di aver lasciato un cittadino italiano per 373 giorni a marcire in un campo di concentramento, obbedendo probabilmente a un ordine arrivato da molto, molto, molto alto. Allora, la sua vita è molto avventurosa, poi vengono raccontate tante altre vicende. Lo è stata. Lo è stata. Cosa l'ha spinta di più, però, questa avventura? Cioè, la voglia di avventura o proprio il senso di giustizia? Senso della patria, senso delle istituzioni, fedeltà all'arma, certo un atteggiamento e un'attitudine personale anche molto forte, perché certe cose le fai solamente se sei portato anche a rischiartela tanto. Però principalmente questa cosa che le dicevo prima, grande fedeltà alle istituzioni, totalmente compresa in molte circostanze. Però, tant'è, lo rifarei sempre. Lo rifarebbe. Assolutamente, in qualsiasi momento. Grazie a tutti.